C'è una rossa che vince nel mare, nei capelli. Bilba, c'è una rossa. I film e i personaggi più impietanti raccolti nella prima grande collezione da privo. Il grande cinema del terrore. Alien e Dracula sono già in edicola con il primo fascicolo a sole 19.900 lire. Il grande cinema del terrore. Vi aspetto. Sono piccole sorprese di sapore. Sono i michetti, fragranti e leggeri. Danno più sapore alla tua tavola e a ogni momento della giornata. Michetti, buoni, come il pane. Da Molino Bianco Barilla. Altro giorno sono andato a casa di Marco che non ce l'ho mai stato prima. Era una casa piena di robe strane. Allora pensavo, boh, chissà qui cosa mi daranno da mangiare. Poi ho visto che anche la mamma di Marco fa come la mia e usa sottilette Kraft. Che loro, secondo me, sono buonissime. Allora ho detto, sono salvo. Sottilette Kraft. Sapore senza eguali. Kraft. Cose buone dal mondo. Meno cinque, quattro, tre, due, uno... Oh, che dolore. È arrivato l'anno nuovo. Ma somiglia a me. Da Semeraro Mobili auguri a tutti gli italiani. Ciao. Ciao. Panina? Sì. Lo vuoi vedere, il cuore? Cuor di paese è fermata col cuore, fetta dopo fetta. Assaggiala, ti innamorerai del suo gusto. Mortadella, cuor di paese. Al gusto non si comanda. Quando ti assicuri con Ina, ti assicuri anche l'esperienza, il dinamismo, la forza della più grande compagnia italiana nel campo delle polizie vite. È una forza che si sente, fa il tipo per te in ogni momento. Ina, un grande sostenitore del tuo benessere. Foxy Super Soft è la carta igienica straordinariamente morbida. Sentiamo la sua morbidezza alla prova microfono. Nessun rumore, solo un soffio. Un soffio di morbidezza. Carta igienica Foxy. La volpe della morbidezza. C'è una ragazza in linea? Sì, 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 c'è sempre una ragazza in linea sul 144 11 43 90. La linea festa più di moda. 144 11 43 90. Sì, qui c'è sempre una ragazza in linea. Meglio la sveglia col mucito o il peluche che diventa cuscino? Sorpresa! Tutti e due! E per te, mamma, il porta dolcezze Milka. Regali e dolcezze con Milka. Tavolette, tender e slurpa. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.